Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parleremo di VORPS un kit di driver, un set di driver che permette agli Oculus Rift di funzionare in numerosi titoli I VORPS purtroppo non sono disponibili gratuitamente ma hanno un costo di 36 euro all'incirca però una volta installati avrete la possibilità di giocare a Skyrim e molti altri titoli con gli Oculus Rift andando sul sito ufficiale e andando su Supported Games avete la possibilità di analizzare una lista di titoli supportati abbiamo Alan Wake, Alien Colonial Marines, Alice Madness Return Arma 2, Arma 3, Assassin's Creed 1, 2, Batman Arkham City, Battlefield 3, 4 e così via dicendo insomma i titoli sono numerosi sono all'incirca 90 titoli, 88 su per giù non bisogna configurare nulla una volta scaricato il programma installato vi basterà avviarlo e avviare il gioco e giocare con gli Oculus Rift attivati diciamo che il funzionamento avviene in questo modo si acquista il VORPS driver e si riceve subito il file di installazione per installarli una volta installato il file viene subito richiesto il download di ulteriori file per il completamento dell'installazione al primo avvio viene richiesto un codice seriale questo codice seriale viene ricevuto via mail quindi dovrete contattare l'email indicata nella schermata mandare il vostro nome e cognome, email di acquisto e il codice che visualizzate per ricevere nel giro di pochi minuti il seriale da immettere nel programma e registrarlo il programma è questo qua ora non funziona perché ho gli Oculus Rift disattivati infatti se il programma non rileva una fonte adatta allo scopo in questo caso gli Oculus Rift non funzionerà mai adesso li accendo così vi do la dimostrazione di quanto vi ho detto premiamo il tasto d'accensione e rilanciamo i VORPS ecco qua adesso è apparsa un'icona nella barra del try clicchiamo su quest'icona per visualizzare il pannello di configurazione di VORPS su questa schermata come potete vedere abbiamo il display monitor quindi avete la possibilità di scegliere che tipo di display utilizzare io lascio use system setting in questo modo viene automaticamente rilevato e utilizzato l'Oculus Rift avete la possibilità di sattivare l'effetto aereo all'avvio del gioco di ripristinare il desktop di Windows di settare i dettagli dell'immagine abilitare o disabilitare l'head tracking, l'head tracking roll e il tracking trigger scegliere un profilo Oculus lanciare il tool di configurazione Oculus Rift attivare voci come le impostazioni avanzate o l'avvio di VORPS control come amministratore in basso, in inglese, come potete leggere c'è scritto che premendo il tasto DL sulla tastiera durante l'utilizzo del VORPS potete accedere a un pannello nel quale è possibile applicare vari settaggi come la lontananza o la vicinanza del FOV la larghezza o la lunghezza dell'immagine il tipo di immagine, la luminosità le specifiche tecniche per ogni singolo occhio quindi per entrambi gli occhi e molti altri ancora diciamo che una volta lanciato un gioco supportato con il VORPS attivo automaticamente sarà visualizzato l'effetto Oculus Rift però è possibile comunque gestire le impostazioni e personalizzarle secondo le proprie esigenze personalmente ho avuto modo di utilizzare vari tool per introdurre il supporto Oculus Rift nei giochi tra cui VORPS che è disponibile a pagamento ed altri gratuiti ma vi assicuro che i 36€ richiesti da VORPS li vali tutti perché l'effetto VR è presente così come l'head tracking in ogni singolo gioco quindi è possibile diciamo immergersi nel gioco completamente guardarsi attorno configurare la vista secondo le proprie esigenze è il top l'unico lato negativo a parte il prezzo che comunque anche se giustificato è sempre elevato risiede nel fatto che l'ultimo aggiornamento risale all'inizio dell'anno quindi non sono stati introdotti di recente ulteriori giochi e il programma o meglio i driver è ancora è ancora in versione beta il supporto tecnico è presente infatti se andiamo sul forum ufficiale è possibile consultare dei posti in cui lo staff è sempre a disposizione degli utenti su questo non ci piove però chiaramente non il vorpx non viene aggiornato di rato quindi per adesso i giochi a disposizione sono soltanto quelli che vi ho mostrato nella lista precedentemente una volta settati i settaggi basterà cliccare su apply e close in questo modo il software rimane nella barra avviare steam avviare il gioco che supporta l'oculus rift e la procedura è andata a buon fine quindi il gioco verrà lanciato automaticamente con l'effetto oculus rift se poi volete disattivare questo effetto chiudete steam completamente chiudete il soft revox spegnete gli oculus rift riavviate steam e il gioco partirà con con la con la grafica normale quindi senza supporto vr spero che questo video sia stato di vostro gradimento se avete qualsiasi dubbio non esitate a lasciare un commento vi risponderemo il prima possibile